Invito allora il professor Edoardo Boncinelli, il quale penso non abbia bisogno di presentazioni perché è un noto editorialista che scrive direi abbastanza costantemente, frequentemente sul Corriere della Sera e su tutte le principali riviste scientifiche che abbiamo. Quindi direi che la cosa più importante è appunto dare la parola a lui che ci parlerà dell'evoluzione ieri e oggi. Buonasera a tutti. Avrete già sentito abbastanza di evoluzione nella giornata di oggi, ma mi dispiace, non è colpa mia. Io devo parlare a questo punto e quindi riparlerò, guarda caso, di evoluzione. E l'evoluzione, come forse avrete sentito ormai dire in tutte le salse, è una cosa che ha cambiato radicalmente la percezione della biologia. Oggi chiunque faccia biologia e in verità anche qualcuno che fa bene il medico non può non tener conto dei contributi concettuali prima di tutto, ma anche materiali che ha portato la teoria dell'evoluzione. La quale ha 150 anni, come tutti sanno, perché la pubblicazione, diciamo, più importante, quella sull'origine delle specie, è stata fatta proprio nel 1859. C'è una lunga storia dell'accoglienza o della non accoglienza della teoria di Darwin e quello che mi ha sempre stupito è che tutto sommato i biologi, i naturalisti, l'hanno accettata quasi subito. Cosa molto differente da quello che hanno fatto i fisici con le grandi teorie rivoluzionali dell'evoluzione. Quindi è stato facile per la teoria dell'evoluzione penetrare nel campo scientifico. Non così, ovviamente, nel campo delle idee, della cultura, nel campo dell'accettare il punto di vista evolutivo per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. C'è una lunga storia, inutile che la ripercorra perché assumo che stamani la prima relazione ha parlato di questo, ma voglio solo dire due cose per quanto riguarda l'Italia. Io ormai ho quasi 70 anni e per tanti anni non ho sentito mai nessuna polemica in Italia contro la teoria dell'evoluzione. Non perché la si accettasse, semplicemente perché alla gente non gliene fregava assolutamente niente. Cioè all'italiano medio della scienza non gli importa niente. Per cui si sapeva, sì, c'è una teoria dell'evoluzione, guai a chiedere a persone anche colte che cosa dice la teoria dell'evoluzione. Perché ne senti di tutti i colori. E ne senti di tutti i colori anche oggi. Perché viene sempre mischiata con la teoria lamarchiana, con l'evoluzione culturale. E si fanno dei discorsi del tipo, i ragazzi d'oggi nascono col computer nel sangue, che vorrebbe dire del computer nel DNA. Cosa manifestamente falsa. Io e mia moglie guidiamo la macchina, ma i miei figli hanno fatto la stessa fatica nostra a imparare a guidare la macchina. I nostri figli hanno a che fare da quando nascono con i computer, ma non sono nati con i computer da qualche parte del corpo. C'è una netta differenza da quello che succede nella parte biologica e quello che succede nella parte culturale. Ultimamente le acque si sono un po' ingarbugliate, perché prevalentemente negli Stati Uniti, da parte di alcune confessioni protestanti, si è detto no. No. Le cose non possono essere andate così. Bisogna ritornare a quello che ha detto la Sacra Scrittura per quanto riguarda l'origine del mondo. Questo è stato chiamato creazionismo, per indicare appunto un rifiuto totale a tutto tondo delle teorie scientifiche, in particolare della teoria evolutiva. Questo non ha attecchito molto in Europa. Non ha attecchito molto in Italia. È raro che troviate un creazionista in Italia, o perlomeno che lo sappia, perché magari lo è ma non lo sa. Quello che è più perverso, più contorto, più complicato, è quello che è successo successivamente. Accortisi che non potevano andare avanti all'infinito sul discorso della Bibbia, perché la lettura letterale delle Sacre Scritture non è mai sostenuta più, nemmeno dalle alte gerarchie, almeno da quelle cattoliche. E allora è nato un movimento, diciamo così, più che un movimento è uno sberleffo, che prende il nome di Intelligent Design, che vorrebbe dire progetto intelligente, anzi vorrebbe dire progetto intelligibile, il quale, a prescindere da un creatore divino, dice che le spiegazioni offerte dalla teoria dell'evoluzione non sono sufficienti. Ci deve essere dell'altro. Come succede sempre quando qualcuno critica e dice ci deve essere dell'altro, non ci dice mai quest'altro che cos'è. Come quelli che dicono la mente non può consistere nel cervello, ci deve essere dell'altro, io dico va bene, va benissimo, dimmi tu che cos'è quest'altro. E così per quanto riguarda la teoria dell'evoluzione, il progetto intelligente che si sta, devo dire, abbastanza diffondendo, soprattutto in campi diversi da quello della biologia, ci sono dei fisici purtroppo, ma anche dei matematici che stanno cominciando a cedere alle lusinghe delle sirene del progetto intelligente, per cui probabilmente, diciamo, nel giro di dieci anni, quindici anni, anche in Italia si parlerà seriamente di questo. Per ora non se ne parla seriamente perché da una parte c'è una teoria scientifica, dall'altra c'è una serie di malumori, punto e basta. Io, pensando di fare la cosa giusta, mi limiterò a dire che cosa dice la teoria dell'evoluzione, perché tutti ne parlano, tutti danno per scontato di sapere o che chi ascolta sappia che cosa dice, ma di fatto così si salta a pieppare il nocciolo della questione. Cosa che a me personalmente, sarà perché io sono nato come fisico, a me dà tremendamente fastidio che si parli di una cosa senza parlare direttamente della cosa. Quindi, chi lo sa già mi scuserà, io dirò in nuce, naturalmente, perché in tempo non mi permette troppo, che cosa dice la teoria dell'evoluzione da quando è nata fino ad oggi. Intanto cominciamo dal problema, perché una teoria scientifica deve spiegare qualcosa. E qua vedete tre punti che, secondo me, sono quelli che la teoria deve spiegare. Li vedete in un ordine un po' inconsueto. È inconsueto l'ordine, perché io l'ho messo dal più certo al più opinabile. La prima cosa certa è che esistono innumerevoli specie di esseri viventi, probabilmente più di 10 milioni, di cui 2 milioni soltanto di insetti. Come mai? Come mai tante specie? Uno se ne poteva fare a meno. Potrebbero essere 200, 300, 400, 500. Perché un numero così spropositato? E questa è una domanda oggettiva, perché introduce un numero. La seconda cosa è altrettanto oggettiva. Ovunque sulla Terra c'è un buco in cui le condizioni fisiche e chimiche permettono la vita, voi ce la trovate. Quindi quello che si chiama a volte la ubiquitarietà della vita. Non solo ci trovate una specie, non solo ci trovate tre specie, ma ci trovate una comunità. Dimostrazione che in poche specie non si sopravvive. Quindi, domanda numero uno. Perché tante specie? Domanda numero due, ma perché dappertutto. La terza invece è quella che di solito si mette per prima. Queste specie ci paiono possedere caratteristiche biologiche mirabilmente adatte alla vita negli ambienti dove vivono. Questa è vera, è importante, ma è opinabile. Il concetto di adattamento è un concetto nostro. Siamo noi che diciamo che la lingua del formichiere è adatta a chiappare le formiche o la coda del castoro è adatta a battere il fango in modo da fare una diga. Il concetto di adattamento non è quantitativo. Non puoi dire di due chi è il più adatto. Non lo puoi comparare. Per esempio, alle terre desertiche è più adatto un batterio, è più adatto un cactus, è più adatto un toporagno, è più adatto un insetto. Sono tutti adatti. Sono tutti adatti ciascuno nel quadro della partenza biologica che l'ha portato lì. Quindi questo è il problema. Inoltre sappiamo, ma lo si sapeva già a tempo di Darwin, che nel passato la situazione è stata diversa. C'erano nel passato specie che oggi non ci sono, ci sono oggi specie che nel passato non c'erano. Poi, come già stato accennato, è un punto importantissimo, le specie si assomigliano tra di loro, quali più, quali meno, e su questa base possono essere aggruppate in ischiere appartenenti a livelli gerarchici diversi. Non c'è nessun motivo di capire perché, se non c'è stata un'origine comune e un allontanamento nel tempo di una specie da un'altra, perché c'è questa gerarchia? Perché c'è questo ordine? Ordine, peraltro, noto, notissimo, già dal 600, o certamente dal 700, perché la sistematica aveva già fatto dei progressi enormi, anzi, i poveri studenti di allora, come quelli di oggi, si dovevano studiare dei lunghissimi elenchi di classificazioni, senza che qualcuno pensasse, ma perché? Qual è il motivo? Perché siamo imparentati e non siamo uniformemente diversi? Dante e Dante, Darwin stesso ci racconta che lui è partito da alcune osservazioni. Ora è sempre dubbio che un grande autore ci racconti effettivamente da cosa è stato mosso, però non c'è motivo per non credergli, tutto sommato. Lui fece un'osservazione banalissima che credo abbiano fatto tutti oggi come una volta. In ogni popolazione esiste qualche individuo diverso, che lui chiamò variante, che noi oggi chiamiamo mutante. Badate bene, in ogni popolazione sia naturale, sia artificiale, nelle piante coltivate, negli animali allevati, c'è sempre qualche individuo diverso da tutti gli altri, che in inglese si chiama sport e che lui chiamò variante. Un'osservazione di una banalità incredibile che però è l'inizio di tutto, perché se in una popolazione non ci fosse nemmeno un variante, non si vede quella popolazione come potrebbe cambiare, come potrebbe evolversi. L'altra cosa che fece un enorme effetto a Darwin, che era un appassionato, era un curiosone per dire la verità, era un appassionato di tutte le cose naturali, e la grandissima potenza degli allevatori e degli agricoltori, che in poco tempo, in poche generazioni, riuscivano a produrre varietà nuove. Pensate che solo di piccioni viaggiatori a quel tempo c'erano 65 varietà diverse. Oggi ci fa ridere, perché nessuno di noi si occupa più di piccioni viaggiatori, ma a quell'epoca era una cosa importante, tant'è vero che quando Darwin mandò all'editore il primo manoscritto della sua opera, questo gli disse, ma perché non mi scrive il professore un trattato su piccioni viaggiatori, che lo vendo tanto meglio, se lo comprano tanto più volentieri. Quello che lui osservò è la potenza di questo metodo, che appunto si chiama selezione artificiale, perché l'allevatore, l'agricoltore, che fa? Non permette a tutti gli individui di accoppiarsi, ma permette di accoppiarsi solo a quelli che lui pensa che porteranno all'obiettivo che lui vuole raggiungere. Se vuole un cane con le gambe sempre più corte, piglia tutti i maschi con le gambe corte, tutte le femmine con le gambe corte e le incrocia. Quelli con le gambe medie o quelli con le gambe lunghe non le fa incrociare. Quindi selezione artificiale. L'altra cosa che venne di moda in quei tempi, perché fu pubblicato il libro di Malthus sulla popolazione umana, è che in ogni specie nascono molti più individui di quanti ne arrivino all'età riproduttiva. Pensate a certi pesci che mettono in circolazione milioni di uova. Se arrivassero tutte a maturità, l'acqua del mare diventerebbe solida. Quindi è una necessità che qualcuno ci rimetta le penne per strada. È una necessità aritmetica. Molti dei critici dell'evoluzione che hanno il cuore tenero e si dispiacciono perché muore tanti giovinetti e tanti animali, non si rendono conto che se non morissero si bloccherebbe tutto. Sono dei batteri, sono dei batteri che si duplica in mezz'ora, se tu lo lasci duplicare senza disturbarlo, in due giorni copre la superficie della terra. Tanta è la potenza esponenziale 2, 4, 8, 16, famoso aneddoto del giocatore di scacchi e della richiesta al sultano. Questo però fu un po' un effetto dei tempi di far rendere conto tutti, compreso Darwin, che qualcosa doveva per forza succedere a livello del fare spazio gli uni agli altri. Darwin propone essenzialmente due cose. La prima, direi, quasi universalmente accettata, la seconda ancora profondamente avversata. La prima, ma chiaramente è stato già detto diverse volte oggi, tutte le specie odenne derivano da uno stesso gruppo primitivo di organismi vissuti un tempo. Un tempo cosa vuol dire? Beh, certamente non sei giorni come la creazione e nemmeno sei mila anni come si diceva nel medioevo. la geologia aveva detto che la Terra doveva avere qualche centinaia di milioni di anni perché è la geologia che ha asperto questa strada nel cosiddetto tempo profondo cioè che la Terra ha tanto più tempo di quello che si stimava. Oggi sappiamo giorno più giorno meno che i primi esseri viventi attestati risalgono a 3 miliardi 800 milioni di anni fa. la seconda proposta quella scandalosa quella che molti non riescono a mandare giù per la sua semplicità è che tutta questa differenziazione in tutte queste specie è avvenuta per solo due meccanismi per variazione oggi mutazione e selezione naturale. Selezione naturale è diventata una parola usatissima oggi ma doveva suonare sanissima agli orecchi dei contemporanei di Darwin perché accanto al sostantivo selezione c'era sempre l'aggettivo artificiale. L'idea di Darwin fu quella di pensare che la natura poteva comportarsi come un grande giardiniere o come un grande zoologo il quale faceva riprodurre certi esemplari e altri no ma naturale perché non era fatta artificialmente era qualcosa secondo il dettame della natura. Questa semplicità sconvolgente è il grande merito della proposta di Darwin ma è anche il grande scoglio contro il quale cozza la nostra difficoltà a renderci conto effettivamente come sono andate le cose. Esempio semplicissimo questo lo faccio in genere ad uso degli studenti mi scuserete c'è una popolazione di erbivori che hanno una certa dimensione che si nutre in praterie piene d'erba senza nessun problema ogni tanto nasce qualche animale un po' più piccino e quest'animale un po' più piccino è sfavorito perché non arriva a competere con quelli che gli mangiano l'erba prima non arriva eventualmente a competere con gli altri per la riproduzione quindi ogni volta che nasce un animale più piccino sparisce cioè non lascia discendenti supponiamo che viene una crisi in cui la quantità dell'erba diminuisce drasticamente ecco che allora quando nascono animali più piccini questi non sono più tanto sfavoriti perché hanno bisogno di meno erba per sopravvivere mentre quelli di prima che avevano dimensioni più riguarda più notevoli hanno difficoltà ad alimentarsi in questa nuova situazione gli strambi i piccoli le stranezze possono avere un vantaggio possono avere un vantaggio che li porta addirittura a soppiantare tutti i precedenti oppure come è molto più probabile che succeda si dividono si spartiscono il campo quelli di prima vanno da una parte dove c'è un po' più d'erba quelli piccini vanno da un'altra in cui c'è meno erba ma magari ci sono altre cose e si formano comunque due popolazioni e dopo un po' di tempo due specie in un caso o nell'altro noi abbiamo spiegato in termini semplici e si può dare anche una descrizione matematica come è stato dimostrato ormai negli ultimi decenni di questa nascita di una o due nuove specie semplicemente col fatto che ogni tanto nasce qualcuno diverso questo diverso in genere paga pegno qualche volta invece di pagare pegno è addirittura avvantaggiato e quindi si afferma bisogna però chiarire due concetti fondamentali perché si va presto a dire mutazione si va presto a dire selezione naturale le variazioni usiamo il termine darwiniano noi oggi sappiamo che sono ineliminabili e casuali noi sappiamo che sono ineliminabili perché conosciamo il DNA e conosciamo il fatto che ogni volta che una cellula si divide in due il DNA si deve raddoppiare si deve copiare il meccanismo della copia è un meccanismo quasi perfetto ma non perfetto fa un errore in media ogni miliardo di caratteri ogni miliardo di nucleotidi ma siccome nel genoma di un animale superiore ci sono tre miliardi di nucleotidi come abbiamo appena sentito vuol dire che ogni volta che una cellula si divide c'è almeno un errore la maggior parte di questi errori sono assolutamente senza conseguenze ma qualcuno no e quindi le mutazioni sono sempre presenti inevitabilmente e sono casuali cosa vuol dire casuali che non hanno preferenze vanno verso quello che sarebbe favorevole ma anche verso quello che sarebbe sfavorevole nella maggior parte dei casi sono indifferenti il fatto che lo si sottolinei è dovuto al fatto che quasi contemporaneamente a Darwin c'è stata la proposta del francese Lamarck il quale si rese conto che gli esseri viventi evolvevano ma propose un meccanismo completamente diverso e diciamo pure psicologicamente molto più accettabile durante la vita io sviluppo un organo mi faccio un callo mi allungo un appendice dopo un certo numero di generazioni qualcuno dei miei discendenti nasce già col callo nasce già con l'appendice più lunga nasce già con la deformazione è concettualmente molto interessante peccato che sia completamente falso non si è mai dimostrato in tanti anni che un carattere che uno acquisisce durante la vita e che quindi si chiama carattere acquisito sia ereditabile in quel caso le mutazioni andrebbero nella direzione della futura evoluzione invece nella visione darwiniana le mutazioni sono casuali vanno in tutte le direzioni la selezione naturale che qualcuno personifica in una signora in un sindacato in un'associazione non è altro che un processo per giunta osservabile solo a posteriori noi vediamo l'opera della selezione naturale non riusciamo mai a prevedere in genere dove porterà è un processo attraverso il quale l'ambiente circostante premia alcuni individui e ne penalizza altri concedendo loro una diversa prolificità ecco un altro degli errori che circolano si parla sempre di lotta per la vita ma in realtà è la lotta per lasciare più discendenti certo se uno non arriva vivo all'età riproduttiva difficilmente lascia dei discendenti però uno può essere forte robusto e biondo all'età riproduttiva e non lasciare nemmeno un discendente un altro può essere bruttarello e claudicante ma lasciare tanti discendenti nella lotta dell'evoluzione biologica vince solo quello che lascia più discendenti questo fatto quantitativo permette di dare un'analisi matematica della teoria dell'evoluzione e possiamo dire in un certo senso che la maturità della teoria dell'evoluzione è avvenuta proprio quando si è potuto dare un trattamento anche quantitativo soliti esempi della giraffa ve ne faccio grazie però voglio fare voglio parlare dei batteri perché nel 1940 c'era ancora qualcuno che diceva va bene gli animali grossi le piante seguono la teoria dell'evoluzione ma i batteri no perché appena io do un po' di antibiotica a una popolazione batterica si sviluppano subito i resistenti e allora un gruppo di persone che ha dato poi storicamente origine alla biologia molecolare al quale gruppo apparteneva anche l'italiano Salvador Luria decide nel 1943 e nel 1944 di fare un'analisi matematica dell'insorgenza delle resistenze nei batteri e da questa analisi venne chiaro e tondo che era tale quale agli altri cioè nascono mutazioni che danno resistenza ma nascono anche mutazioni che sono addirittura più sensibili la stragrande maggioranza delle mutazioni non è né resistente né sensibile solo quelle che danno resistenza vengono selezionate il problema è che il tempo di generazione dei batteri è così corto cioè il processo evolutivo dei batteri è così svelto che sembra che ci sia una saggezza nel modo come i batteri reagiscono alle sfide ambientali la teoria dell'evoluzione è una teoria scientifica e come tale non spiega tutto punto fondamentale le teorie che spiegano tutto non sono teorie scientifiche qua ho buttato giù tre date 3 miliardi 800 milioni di anni fa primi esseri viventi 600 milioni di anni fa quella che è stata chiamata l'esplosione del Cambriano è un evento esplosivo che dura poco poco si deve sempre leggere 20 milioni di anni quindi basta intendersi sul termine e che porta la comparsa di tutte le maggiori divisioni astronomiche degli animali e poi 6-7 milioni di anni fa l'origine dell'uomo diciamo o dei suoi antecedenti più diretti che cosa spiega la teoria dell'evoluzione spiega molto male quello che è successo prima di 3 miliardi 800 milioni di anni fa compreso per ora l'origine della vita spiega bene ma non benissimo tutto ciò che è avvenuto fra 3 miliardi e 800 milioni di anni fa e 600 milioni di anni fa non perché la biologia non vada bene ma perché ne è successo talmente tante alla povera terra di natura climatica di natura meteorologica di natura meteorica di natura astronomica che farne una teoria diventa veramente difficile spiega invece molto bene quello che è successo da 600 milioni di anni fa ad oggi che è poi l'unica cosa che ci interessa veramente perché da allora è successo tutto quello del quale di solito si parla perché 600 650 milioni di anni fa non c'erano i vertebrati e ma non c'erano nemmeno gli insetti cioè tutte le cose che noi viviamo vediamo oggi sono nate in questo lasso di tempo e poi naturalmente c'è il problema dell'origine dell'uomo che è un problema a sé stante quali sono le prove della teoria dell'evoluzione beh intanto gli scavi e i fossili poi la sistematica l'ho già detto perché le specie si somigliano se non c'è un motivo di discendenza ma direi che oggi il maggior numero per lo meno quantitativamente la gran massa delle prove vengono dalla genetica e dalla biologia molecolare che hanno dimostrato tra le altre cose l'incredibile unitarietà che c'è nei viventi e che 30 anni fa per esempio era quasi inimmaginabile ogni giorno c'è una nuova conferma chiunque lavori anche non consapevolmente nel campo dell'evoluzione perché ben pochi a parte l'Italia fanno biologia evoluzionistica quando fai il biologo di qualsiasi livello tu sempre ti occupi anche della teoria dell'evoluzione ma naturalmente Darwin è vissuto quando è vissuto ha scritto dopo 20 anni di pensamenti la sua opera nel 59 cioè 150 anni fa possibile mai che non sia successo nulla? eh certamente no è successo tantissimo da allora e semmai dobbiamo rimanere ammirati di come nella quasi totale ignoranza di tutto quello che a noi oggi sembra importante quest'uomo avesse capito il nocciolo della questione e abbia tutt'oggi quasi ragione su tutto probabilmente aveva due doti era un osservatore formidabile e lui stesso ci racconta che ogni volta che sentiva una critica ogni volta che lui stesso si faceva una critica la scriveva e pensava come rispondere e dice lui così io ho pensato che quando avessi pubblicato la mia teoria ci sarebbero state ben poche domande alle quali io non sapevo rispondere naturalmente a ragione o a torto quelli oggi che criticano la teoria dell'evoluzione non hanno letto le opere di Darwin figuriamoci poi quella dei biologi molecolari perché la maggior parte delle obiezioni che loro fanno sono già prese in considerazione con le dovute risposte comunque non possiamo sapere perché Darwin le ha ingarrate quasi tutte una specie di mostro pur essendo in un campo quello della scienza che cambia a una velocità incredibile lui non sapeva nemmeno che c'erano i geni sono stati scoperti i geni è stato scoperto il meccanismo d'azione la natura della mutazione come ho appena ricordato scoperti i meccanismi genetici complessi dei quali è stato appena parlato alcuni dei quali li conosciamo da pochi anni e processi dello sviluppo embrionale e post embrionale che a quell'epoca non si sognavano nemmeno guardate bene che l'evoluzione in realtà è evoluzione dello sviluppo perché nessuno nasce adulto ogni nuova specie è nata prima embrioncino poi cucciolo poi cresciuta poi diventata adulto quindi quello che evolve non sono gli adulti quello che evolve sono gli embrioni e i processi di sviluppo cosa che oggi è ovvia infatti c'è una nuova disciplina che si chiama evo-devo da evolution e development ma fino a pochi anni fa non lo trovate scritto da nessuna parte evoluzione è in primis evoluzione dei meccanismi di sviluppo un esempio qua se il mouse mi seguisse andrebbe bene vedete se fa la magia anche a me qua sopra vedete un embrione di trossofila di quel moscerino che è stato presentato prima con gli occhi rossi e con solo due alucce questa è la testa questa è la coda vedete che il corpo è diviso a colori secondo i colori di questo gruppo di geni che si chiamano geni omeotici il gene verde controlla diciamo la mandibola il gene azzurro controlla il collo il gene rancione controlla il torace il gene giallo controlla la coda scoperta interessantissima 1983 1984 1985 gli stessi geni esistono in tutti gli animali superiori compreso i mammiferi e qua giù vedete un topolino testa coda con il corpo colorato con lo stesso criterio perché anche qui il gene verde colora la mandibola il gene arancione colora il futuro torace i geni gialli colorano la futura coda a questa scoperta ha collaborato anche il mio gruppo nell'85 e da quel punto abbiamo capito che insetti e mammiferi per esempio ma poi tutti gli altri hanno il corpo suddiviso in regioni specifiche da una batteria di geni che sono essenzialmente gli stessi successivamente abbiamo dimostrato la stessa cosa anche per la testa cioè per il cervello per quanto il cervello di un moscerino sia piuttosto diverso da quello nostro almeno di certe persone anche quello è suddiviso in tre regioni come il nostro e sono tre i geni che specificano questa suddivisione questo è 1985 86 87 ultimamente è uscito un lavoro che a me personalmente ha molto colpito voi sapete che nel nostro corpo abbiamo la parte destra quasi uguale a quella sinistra ma abbiamo delle piccole differenze perché abbiamo il cuore a sinistra e il fegato a destra il gene che controlla questa leggera simmetria nei mammiferi si chiama nodal perché sta nel nodo embrionale è stato scoperto nelle conchiglie dei molluschi che come sapete alcune girano in senso orario alcune girano in senso anti-orario che il gene che stabilisce se la conchiglia gira così o gira così è nodal anche nei molluschi è stato fatto un mollusco senza nodal e la conchiglia andava diritta poverina perché non sapete se andare a destra o se andare a sinistra questo non è diverso da quello che vedete espresso qua però ribadisce che certi geni fondamentali hanno fatto lo stesso mestiere almeno da 600 milioni di anni questa fondamentale unitarietà non si poteva immaginare ma c'è di più questi sono geni che comandano batterie di altri geni io al suo tempo li chiamai geni architetto perché suddividono il corpo come fa un architetto in un progetto in realtà non hanno un nome vero e proprio sono chiamati spesso geni master loro controllano l'attività di tanti o tantissimi altri geni è chiaro che se muta uno di questi l'effetto non è piccolo l'effetto è grande o addirittura grandissimo e questo Darwin non lo poteva sapere tutte queste cose hanno portato al neodarwinismo negli ultimi 50 anni cioè nel tempo in cui ho fatto il biologo sono state sollevate due grandi critiche scientifiche al neodarwinismo la prima che prende il nome di neutralismo il cui capostipide era un giapponese incomprensibile che si chiamava Kimura che notò che ci sono troppe mutazioni in giro tutti siamo pieni di mutazioni fra due di noi presi a caso ci sono tre milioni di differenze molte di queste non hanno effetto allora se le mutazioni non hanno effetto come fa l'evoluzione a lavorarci sopra? l'altra critica oggi più famosa prende il nome agli saltazionismo o teoria degli equilibri punteggiati e il principale esponente è quello Steven J. Gold che dopo aver scritto libri bellissimi ha pensato di morire per lunghi periodi storici non succede niente durante l'evoluzione mentre per brevi periodi succede tutto ve l'ho già detto 20 milioni di anni intorno a 600 milioni di anni fa è successo l'ira di Dio poi molte specie sono rimaste sostanzialmente fisse e poi c'è un'altra catastrofe poi un periodo fisso e poi c'è un'altra catastrofe la teoria dell'evoluzione ha dovuto incorporare e questo è il bello delle teorie scientifiche che crescono anche se non soprattutto grazie alle critiche ha dovuto incorporare tutto questo e siamo arrivati così al neodervinismo attuale il paradosso qual è stato che a coloro ai quali non piaceva il massiccio intervento del caso nella vecchia teoria sono rimasti scornati perché più la teoria si si dettaglia più si perfeziona più cresce e più che il caso ha sempre più importanza sappiamo oggi che possono essere importanti nell'evoluzione grandi sconvolgimenti non biologici ma perché questo è ovvio caduta di meteoriti vulcanesimo comparsa scomparsa di nuove terre inondazioni siccità oppure sconvolgimenti biologici esterni invasioni estinzioni espansioni o contrazioni del numero di membri di una popolazione cambiamenti di habitat e via discorrendo per esempio oggi è chiaro che molti dei cambiamenti evolutivi importanti avvengono quando una popolazione è piccola cioè che ha pochi membri questo si chiama effetto del collo di bottiglia esistono molte popolazioni che hanno in certe stagioni tantissimi membri pensate alle mosche d'estate e alle mosche d'inverno in certe stagioni o in certi anni pochissimi membri ma se tu cambi qualcosa quando i membri sono pochi il risultato è tremendo perché dopo da quei pochi se ne fa tanti e quelli che sono spariti non tornano più questo fenomeno in biologia umana si chiama effetto del fondatore ma è un effetto a collo di bottiglia per esempio c'è in mezzo all'oceano un'isola che si chiama Tristan da Cugna la maggior parte degli abitanti della quale soffre di asma com'è possibile che in un'isola in mezzo all'oceano sbattuta dai venti in cui non ci sono miasmi non c'è quell'inquinamento di cui tutti oggi parlano del nostro mondo soffrono di asma c'è un'unica spiegazione possibile che l'isola è deserta è stata popolata da uno due tre vascelli arrivati a un certo momento 80-90 persone e fra questi per caso c'era un numero enorme di portatori di geni per l'asma ecco perché si chiama effetto del fondatore perché il fondatore quello che è arrivato era particolare aveva certe caratteristiche ricordatevi quasi tutti i mirabolanti cambiamenti evolutivi sono avvenuti quando le popolazioni erano piccole quando si era in un collo di bottiglia ma ci sono anche sconvolgimenti genetici non pensabili prima cambiamento del numero complessivo dei cromosomi per esempio a un certo momento il numero dei cromosomi dei vertebrati è raddoppiato oppure fusioni lo scimpanzese ha 48 cromosomi noi ne abbiamo 46 perché due cromosomi dello scimpanzese sono fusi oppure al contrario rotture cromosomiche grandi riassortimenti o mutazioni in un gene master come ho detto prima la mutazione in un gene prepotente in un gene di alto livello gerarchico porta in genere una strage quindi non porta a nulla ma se qualcuno sopravvive può avere quattro ali invece di due può avere un paio di zampette sulla testa invece delle antenne può avere quattro zampe invece di sei questo ormai in laboratorio lo facciamo quotidianamente ed è la prova provata che non c'è bisogno di pensare che i cambi evolutivi siano piccoli possono essere anche molto grandi e questo Darwin non lo poteva sapere era stato supposto qualcosa del gene intorno al 1920 quando si parlò di super mutazioni di super geni effettivamente questi sono super geni che quando mutano sconvolgono è chiaro che la maggior parte dei casi non si salva nessuno ma quando qualcuno sopravvive se ne va debolino ma da dei discendenti completamente diversi ecco il discorso degli anelli mancanti come ha detto l'oratore prima di me certi anelli mancanti possono non esserci mai stati o possono essere vissuti giusto e necessario per portare la fiaccola alla generazione successiva che poi si è assestata la teoria dell'evoluzione non ci piace a nessuno non ci piace a nessuno anche quelli che la sostengono devono se sono onesti dire che non gli viene fatto perché? perché in tutte le nostre spiegazioni c'è una direzione c'è una finalità c'è un progresso quasi quasi c'è un progresso perché la teoria dell'evoluzione è nata nel settecento quando era prevalente l'idea di progresso che è tutto da dimostrare che ci sia anche un'evoluzione culturale ma certamente non c'è un'evoluzione biologica quindi a noi non piace perché manca una direzione manca una finalità manca un progetto tutto quasi è opera del caso siccome l'uomo è nato in una maniera per cui il cervello è sempre schiavo delle emozioni anche se lui lucidamente si rende conto che questa teoria spiega una quantità di cose esorbitante qualcosa dentro si ribella qualcosa dentro si agita per cui sono nate come ho detto all'inizio una serie di critiche non scientifiche tra cui il creazionismo il quale perlomeno taglia corto dice non ti credo padre eterno ha fatto tutto non gli puoi dire nulla gli puoi dire nemmeno che non è vero perché siccome siamo su un piano completamente diverso tu puoi accettare tutto più secondo me maligno il progetto intelligente perché in quel caso si insinua il dubbio è noto che non costa nulla insinuare il dubbio ma è anche noto che quando in una qualsiasi cosa insinui il dubbio l'edificio prima o poi crolla i sostenitori per la verità molto pochi non bravi e che non sanno nemmeno scrivere bene i loro libri dicono appunto ma qua c'è qualcosa che non va qua c'è qualcosa che non va io ho fatto in un mio articolo che è uscito poi in un libro di biologia per le scuole in un libro di biologia 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 in un libro di biologia